Ho parlato spesso di mediocrità negli ultimi video che ho fatto e oggi concludiamo il discorso perché ho parlato della mediocrità per gli antichi, ho parlato della mediocrità per i moderni e oggi parliamo della mediocrità per i contemporanei, perché se questo concetto era centrale nell'antichità era ben noto, ben studiato da tutti gli uomini intellettuali dell'epoca, oggi è davvero stato scordato in molti casi, si ritiene che la nostra società sia una società della performance, una società in cui la mediocrità non è più accettata e qui ognuno dovrebbe spingere per essere perfetto, migliore, più adeguato, superiore, più performante più bravo, fino quasi allo stremo delle forze, c'è qualcosa di vero, non è sempre così ovviamente eppure la tendenza sembra essere abbastanza quella, per fortuna anche nell'età contemporanea, anche nel novecento in questi primi anni duemila c'è qualcuno che dice che invece bisogna riconsiderare la mediocrità bisogna ripensare al nostro essere mediocri, al senso della nostra mediocrità, inteso sempre nel senso classico nel senso di medietà, di aurea mediocritas, di equilibrio. Oggi vi spiego perché, vedremo alcuni filosofi che analizzano e sottolineano questo concetto. Andiamo a cominciare. Un po' di caffè come al solito nella tazza con la scritta andiamo a cominciare, non è caffè in realtà è caffè latte ma visto che qualcuno mi scrive preoccupato, meglio che lo ribadisca, con me ci sono anche preoccupato per il mio livello di caffeina, ci sono anche Batman qua, topolino là, andrei qua e tu stai qua a farmi compagnia. Io mi chiamo Romano Ferretti, su internet noto anche come Scripp, sono un insegnante di storia e filosofia delle superiori e dal marzo del 2020 su questo canale sto realizzando delle video spiegazioni di storia, di filosofia, di educazione civica, alcuni approfondimenti sui libri, sui film anche su temi come questo della mediocrità. Questo video di oggi fa parte di una serie, in descrizione trovate la playlist con tutti i capitoli precedenti così se volete farvi un percorso ce lo avete davanti agli occhi. Come vi dicevo parliamo di questa benedetta mediocrità e oggi è una giornata un po' particolare perché vi dico il video uscirà in realtà tra qualche giorno rispetto a quando lo sto registrando ma io sto registrando il 12 luglio 2021, il giorno dopo, anzi la mattina dopo della vittoria dell'Italia agli europei di calcio. Probabilmente sapete di cosa sto parlando perché è difficile se vivete in Italia che non abbiate sentito gli strombazzamenti, le questioni eccetera. Una vittoria che è arrivata allo stesso giorno in cui tra l'altro Matteo Berrettini, primo tenista italiano della storia, è arrivato in finale a Wimbledon, tennis, uno dei tornei più importanti del mondo, forse il più prestigioso, storico, sull'erba e però ha perso contro Novak Djokovic, grandissimo tenista numero uno del mondo eccetera. C'è stata la sconfitta di Berrettini al pomeriggio, sconfitta con onore, ma comunque sconfitta anche piuttosto netta, ha perso per 3 a 1. C'è stata poi in serata la vittoria dell'Italia sull'Inghilterra, sempre a Londra, però stavolta a Wimbledon mentre la partita dei tennis era a Wimbledon. La vittoria dell'Italia contro l'Inghilterra in rimonta in modo un po' rocambolesco perché l'Italia è andata sotto subito dopo appena due minuti, ha recuperato, nel secondo tempo ha fatto il pareggio, poi ha anche dominato la gara per larghi tratti, si è arrivato ai rigori e ha vinto ai rigori grazie a ottime parate di Donnarumma eccetera. Ora, gli inglesi non hanno regito benissimo la sconfitta, almeno in base a quello che ci fanno vedere gli organi di stampa eccetera o si legge su Twitter, sui vari social network, un po' perché l'avevano anche fin troppo attesa probabilmente con questo It's coming home sta tornando a casa il calcio, l'avevano un po' esageratamente attesa, infatti è sembrato quasi un nuovo maracanazzo per chissà cosa intendo e un po' perché ci sono stati scontri anche prima, hanno fischiato l'inno, se ne sono andati alla premiazione, gli atleti inglesi stessi sono tolti la medaglia, insomma ci sono stati vari piccoli gesti, anzi a volte piccoli a volte più grossi, gesti di mancanza di sportività, potremmo chiamarla così, che questa volta sono toccati gli inglesi altre volte sono toccati agli italiani o altre nazionalità, non è per forza gli inglesi, certo gli inglesi questa volta si sono comportati pare, piuttosto male, poi hanno offeso i loro stessi giocatori sui social network perché i rigori sono stati sbagliati da tre giocatori di colore, quindi ci sono state accuse razzistiche, attacchi pesantissimi sui social network da parte degli inglesi contro i loro atleti, insomma un disastro, un disastro dal punto di vista della sportività, dal punto di vista del fair play, dal punto di vista del sopportare le sconfitte, visto che oggi parliamo di questo, parliamo proprio di mediocrità e anche fallimenti e sconfitte, mi è sembrato in fondo utile registrarlo stamattina questo video, proprio mi sono detto avevo altre cose da fare, mi ho detto meglio farlo subito, avevo già pronta la scaletta, meglio registrarlo subito perché ci sta a fagiolo. Nella nostra cultura, chiamiamola cultura in senso ampio, cioè nel nostro modo di vivere in questi ultimi decenni, la cultura sportiva, che è una cultura in realtà di agonismo ma anche di fallimento, ovviamente nello sport uno vince e gli altri perdono, solitamente arrivano secondi, terzi, quarti, oppure vincono a livelli diversi. Nella cultura sportiva si fa, ultimamente soprattutto, grande leva, si spinge molto sul fair play, sul sapere accettare le sconfitte, sul gioco corretto, sul rispetto per l'avversario, giustamente. E però questo a volte viene ricepito, a volte no, ovviamente, e purtroppo il calcio è uno di quegli sport in cui non sempre viene ricepito, a volte sì, sono nobili casi, nobili esempi anche di sportività nel calcio, ovviamente, ma nel corso degli anni il calcio non si è fatto, di solito una buona nomea tra tuffatori, simulatori, tifosi non sempre, anzi, spesso non adeguati al ruolo, che distruggono, fanno violenze, fanno inni antisemiti, razzistici, di tutti i tipi. Insomma, gravi problemi. Quindi, quello che è successo ieri sera con l'Inghilterra è purtroppo la prova ulteriore di un atteggiamento che a volte è sbagliato, cioè non è a volte sbagliato, è sempre sbagliato, ma a volte è esagerato, di ricerca, di ricerca della performance a tutti i costi, del primo posto a tutti i costi. Gli inglesi, certo, capisco la delusione, è comprensibile giocando anche in casa, ma tutto sommato sono arrivati secondi, con una nazionale che non è abituata ad arrivare secondi, perché è una nazionale che, a parte il mondiale del 66, ha sempre fatto abbastanza male, ha raccolto spesso più delusioni che successi. Quindi, tutto sommato, già essere arrivati in finale può essere visto come un buon risultato. Anche noi italiani ci saremmo rimasti molto male, ovviamente, se ieri avessimo perso, ma già arrivare secondi penso che sarebbe stato un ottimo risultato per una nazionale che poi è partita da un livello molto basso e ha raggiunto alte vette. Purtroppo, questo viene spesso dimenticato in favore dell'unico primo posto. Bisogna arrivare primi e se non si arriva primi è il disastro, se non si riesce a vincere è il disastro. Poi, purtroppo, nelle partite, a parte che secondo me l'Italia era nettamente superiore all'Inghilterra, ma in ogni caso, nelle partite uniche, a volte c'è la fortuna, c'è la sfortuna, nei rigori soprattutto, a volte c'è la fortuna, c'è la sfortuna. Noi stessi italiani lo sappiamo bene, l'Italia 90 eravamo forse nella nazionale più forte, giocavamo in casa, perdemmo i rigori semifinale. Stati Uniti 94, per chi si ricorda, io me lo ricordo bene perché avevo 15 anni e soffrì molto i rigori, furono tremendi. Francia 98, per carità, non in finale, però anche lì rigori, insomma, abbiamo una brutta storia anche noi con i rigori, di delusioni, di tragedie, di tragedie anche nazionali. E però, i rigori sono così, sono un terno all'otto, si vuole fortuna, lo sport è così, non sempre vince la squadra più forte, a volte sì, a volte no, ma appunto, a volte ci si può anche contentare, tra virgolette, di essere i secondi in Europa, ci si può contentare di essere i secondi al mondo, di essere i quarti, di essere gli ottavi, in fondo quanti non metterebbero la firma per essere i centoventisettesimi d'Europa? Io ci metterei la firma per essere il centoventisettesimo più bravo in una cosa in Europa. Eppure pare nata già di arrivare secondi, perché? Forse perché, appunto, l'essere secondi, per molti, significa essere solo il primo degli sconfitti. E però, perché si dimentica che la vita è sconfitta, è perenne sconfitta. La vita, ci direbbe Schopenhauer, è una serie interminabili di sconfitti intervallate ogni tanto da una vittoria, che però finisce subito. Ecco, questo ce lo diceva Schopenhauer, ma ce l'hanno detto anche alcuni filosofi del Novecento. E, prima di vederli, vorrei segnalare anche questo. L'unico personaggio che ieri ha ben rappresentato questo spirito sportivo della sconfitta, almeno ieri, è stato Matteo Berrettini, per una volta un italiano, quindi gloriamoci anche di questo bel esempio. Matteo Berrettini ha perso, ha perso nettamente, per carità, ha giocato anche bene a tratti, ha fatto qualche errore in finale, come può capitare per un giovane ragazzo che fa la sua prima finale. Ha fatto un grandissimo percorso quest'anno, anche arrivare in finale a Wimbledon è stata una incredibile impresa. Poi, ovviamente, ha avuto di fronte un avversario molto più rorato, forse anche più forte in questo momento di lui, e ha perso con l'onore delle armi. Se avete visto le dichiarazioni che ha rilasciato Berrettini, proprio immediatamente durante la premiazione, sono state dichiarazioni perfette, in cui ha elogiato il suo avversario, ha messo la sconfitta come era inevitabile fare, ha anche mostrato la propria felicità per essere arrivato fin lì, per essere arrivato a quel punto, per essere arrivato alla sua prima finale importante, spera di farne altre, come è giusto che sia, non è detto che ci riesca, noi gli auguriamo assolutamente di sì, perché è un ragazzo ancora giovane ed è molto bravo, ed è un ragazzo educato, intelligente, quindi tanti 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 elogi, però vedete, certo sono due sport diversi, gli europei si accorrono una volta ogni quattro anni, la T mondiale è già l'anno prossimo, i tennis sono molti più tornei, eccetera, ma in fondo si può perdere, arrivare a secondi ed essere comunque molto molto contenti anche di essere arrivati secondi, solo, tra virgolette, secondi. Ma passiamo appunto ai filosofi, ci sono vari pensatori che nel novecento hanno sottolineato l'importanza dell'ammettere il proprio fallimento, che può per carità portare un pessimismo molto molto netto, ma può anche essere la molla per far partire poi una nuova consapevolezza. Per analizzare questa situazione vi presenterò alcuni pensatori, ma partirei dagli esistenzialisti, che poi riprenderò in parte alla fine per concludere, e in particolare partirei da Jean-Paul Sartre, importante filosofo francese, esistenzialista, forse il punto di riferimento mondiale dell'esistenzialismo negli anni 40 e 50 del novecento, in descrizione vi metto anche il link al video che ho preparato su di lui se volete poi approfondire e allargare il discorso. Cosa dice Sartre? Perché si lega alla mediocrità, cioè questa accettazione della sconfitta diciamo? Perché Sartre riprende alcuni spunti scritti, proposti in quegli stessi anni, da un lato da Heidegger e dall'altro anni prima da Nietzsche, e tira un po' le somme in un certo senso a livello esistenziale di una serie di riflessioni che hanno state portate avanti tra la fine dell'ottocento e l'inizio del novecento. Cosa dice Sartre? Afferma questo, l'uomo si trova a vivere in una dimensione ormai di nulla, cioè l'uomo deve fare i conti con un mondo senza Dio. Dio è morto, come aveva già annunciato Nietzsche, cioè sono morte le fedi religiose, sono morte le fedi filosofiche, sono morte le fedi nella scienza, ogni fede si è rivelata fallimentare, ogni speranza in una forza sovrumana che guidasse l'uomo si è dimostrata malposta, perché non esistono forze sovrumane che guidano l'uomo, in fondo tutte le tragedie delle guerre mondiali, prima e seconda guerra mondiale, ne sono forse la prova, sono la prova del fatto che la vita umana e il divenire della storia non è guidato da una provvidenza, non è guidato da l'assoluto ora chi per essi. Il divenire della storia è purtroppo un divenire che può essere a tratti anche assurdo, che ci può portare non verso il bene o verso la ragione o verso la realizzazione di un piano rivino, ma molto spesso verso pararossi e assurdità, pensate ai milioni e milioni di morti della prima guerra mondiale e decine di milioni di morti della seconda guerra mondiale, l'olocausto, le bombe atomiche, disastri in mani, la peggior pagina forse della storia dell'umanità in quanto a capacità di distruzione collettiva. L'uomo può essere l'artefice non solo della distruzione di un altro popolo o di altri uomini, ma forse perfino dell'intera specie umana e questa è prova che il progresso non è di per sé progresso in sé, che il cammino dell'umanità, degli eventi eccetera, è un cammino molto incerto che a volte va verso il bene, ma a volte va verso il male e nessuna forza imperisce l'una o l'altra deriva, ovviamente. Quindi Dio non c'è, quindi il progresso neppure quello c'è, non ci sono più punti di riferimento, l'aveva già detto Nietzsche in fondo, no? Ma Sartre, conoscendo anche la riflessione di Heidegger e criticando alcune riflessioni di Heidegger, sostiene questo, è vero che Dio non c'è, ma ci siamo illusi, ammettendo la morte di Dio, di poter noi in un certo senso sostituirci a Dio. Pensiamo a quello che aveva fatto Nietzsche con la teoria del super uomo, con la dottrina del super uomo. Dio è morto, abbiamo ucciso Dio noi stessi, in quel famoso brano, Nietzsche afferma noi stessi, abbiamo ucciso Dio come potremmo spezzare la catena del nostro sole, come potremmo ucciderlo con i nostri pugnali insanguinati, eccetera. Ma dobbiamo noi stessi forse diventare Dio per sostituirci a questo Dio morto. Lo dice proprio anche nella Gaia Scienza, no? Non dovremmo forse noi essere dei per sopportare il peso di quella morte. Ecco, se noi mettiamo da parte Dio, mettiamo da parte le fedi, mettiamo da parte ogni fiducia in qualcosa di superiore, allora tutto ricade sulle nostre spalle ovviamente. Non c'è più Dio a salvarci, la scienza a salvarci, il progresso a salvarci, l'assoluto hegeliano a salvarci, niente di più ci salva, tutto sta sulle nostre spalle. E quindi se vogliamo riuscire a sopportare questo peso, dobbiamo diventare forti come un Dio in un certo senso, dobbiamo farci le spalle larghe e dobbiamo imparare a gestire una apparente mancanza di senso. Ora, questo lo diceva Nietzsche, infatti il superuomo è l'uomo che diventa Dio in un certo senso, che riesce a ricreare i valori, che riesce a raffrontare la vita, che riesce a dire sì alla vita senza bisogno di promesse e di falsità. Però Sartre dice, attenzione, Nietzsche si è in fondo illuso, Nietzsche è stato fin troppo ottimista, perché è vero che noi nella vita, in mezzo alle cose, siamo liberi, cioè siamo in grado di dare alle cose il significato che vogliamo, siamo in grado di prendere un paio di forbici e usarle come coltello e usarle come tagliacarte, usarle come oggetto d'arte se le attacco a muro, eccetera, usarle per mille cose diverse. Sono io che decido come usare quel paio di forbici, quindi sono io che do il significato a quell'oggetto. Ma questo dare significato alle cose, dagli oggetti più semplici agli oggetti più complicati, che è possibile, bisogna che parta in fondo da la nostra scelta, da una nostra decisione. Cioè bisogna che noi creiamo il nostro progetto sulle cose, creiamo il nostro progetto di vita, creiamo la direzione da dare alle cose e noi in questa direzione da dare alle cose siamo completamente privi di bussola. Perché fare una cosa piuttosto che un'altra? Perché scegliere un atteggiamento morale piuttosto di un altro? Non c'è una direzione, non c'è un discrimine, non c'è una scelta, o meglio c'è la nostra scelta che ci rende persone, che ci dà un volto, perché fare le scelte significa darsi un volto, ma tutte queste scelte sono prive in realtà di fondamento. Io posso anche scegliere di usare le forbici per tagliare dei pezzi di carta, fare ricoriandoli e lanciarli in aria. Posso farlo, sono libero. Ma perché questo è diverso dall'usare le forbici per uccidere una persona o usare le forbici come soprammobile? Certo è diverso, ma che senso ha? Certo uccidere un'altra persona potremmo dire è sbagliato, ma chi mi dice che è sbagliato? I dieci comandamenti, i dieci comandamenti sono per certo un'invenzione. Chi mi dice che uccidere è sbagliato? Dio non c'è, la morale non c'è. In fondo uccidere o non uccidere è una mia scelta, è un frutto di un mio progetto. E allora uccidere o non uccidere non c'è differenza. Ubriacarsi, come diceva Sartre, passare tutta la vita ubriacarsi nel chiuso di una stanza o guidare gli eserciti alla conquista dell'Europa non fa a livello esistenziale nessuna differenza, non cambia nulla. La nostra vita sarà comunque priva di senso. Tutto questo perché? Perché l'uomo, dice Sartre, è un dio mancato. L'uomo vorrebbe farsi dio, come Nietzsche suggeriva, vorrebbe diventare oltre uomo, ma si rende conto che questa scelta è impossibile. Perché l'uomo cade nel mondo, si trova calato nella storia, vive, nasce, si sviluppa in mezzo a oggetti, a cose, a situazioni, a stati, a fenomeni storici, ma non ha scelto lui di essere lì. È vero che dentro a questi fenomeni può scegliere. Può scegliere come usare le forbici, può scegliere come comportarsi, può scegliere cosa votare, quando va a votare, può fare decine, migliaia, milioni di scelte che lo configurano. Ma tutte scelte non fondate, perché il fondamento di queste scelte non è una scelta. Mi spiego. Io scelgo di giare le forbici in un modo, scelgo di votare in un altro modo, scelgo di agire in un altro modo, ma il punto di partenza da cui partono e scaturiscono tutte le mie scelte non l'ho scelto io. Io non ho scelto di nascere, non ho scelto di vivere nell'Italia del 2021, non ho scelto di essere ora seduto davanti qui, ma non ho scelto di nascere, avere questa faccia, vivere in quest'epoca, in un'epoca in cui c'erano le telecamere, in cui c'era YouTube, eccetera. Ho scelto di usare YouTube, ma non ho scelto di vivere in quest'epoca. Ora capite che le mie scelte partono sempre da una situazione che non è stata scelta. L'essere qui, vivo, oggi in queste situazioni. Quindi è questo il paradosso, che io dovrei farmi Dio perché dovrei essere in grado di ricreare il mio mondo, così diceva Nietzsche, ma non posso farlo perché il mondo è già creato prima di me. Il mio mondo esiste già prima ancora che io inizi a viverlo. YouTube c'è già, le forbici ci sono già, le altre persone che incontro ci sono già, non le creo io. Io posso fare delle scelte all'interno di ambiti già definiti dalla situazione storica in cui mi trovo a vivere. Quindi le mie scelte dipendono da un pregresso, da un punto di partenza che non è stato scelto. E quindi l'uomo si trova sconfitto in tutto questo. L'uomo fallisce. Il tentativo di diventare dei è fallimentare. L'uomo perde. Perde come in Inghilterra, peggio, perché si illude di poter vincere in ogni cosa che fa, ma a un certo punto si rende conto che tutte le cose che fa, tutte le scelte che fa, sono prive di significato. O meglio, una vale l'altra. Come dicevo, ubriacarsi e diventare presidenti della Repubblica non cambia niente. Alla fine è sempre sconfitti, siamo sempre destinate a morire, siamo sempre in una vita che non ci dà veri significati, siamo calati. E quindi è un esito ovviamente pessimista che non lascia molto scampo a speranze, a sogni di vittoria, di trionfo. Il fallimento è la nostra dimensione esistenziale più vera, secondo Sartre. Lui non insiste più di tanto su questo, insiste soprattutto sulla nausea che ci dà questa situazione. Noi proviamo una nausea davanti all'esistenza, perché è un'esistenza che ci è data, in cui possiamo anche agire, ma in cui il nostro agire non cambia in realtà nulla. Questo almeno nel primo Sartre. Nel secondo Sartre le cose cambieranno un po', perché nel secondo Sartre, dopo soprattutto la seconda guerra mondiale, negli anni 50, Sartre metterà un po' da parte questo pesante pessimismo e accetterà anche il compromesso di tentare di cambiare il mondo. È vero che nel mondo siamo calati e che le nostre possibilità sono sempre limitate dall'essere determinati in partenza, ma possiamo comunque lottare in qualche maniera per migliorare un po' le cose, soprattutto con l'attivismo politico e l'attivismo sociale. Infatti Sartre si impegnerà molto, aderendo al fronte comunista, per cercare di cambiare la Francia, il mondo, sostenere lotte di vario tipo. Capite però che la dimensione del fallimento, la dimensione del Dio mancato, rimane permane. È comunque una dimensione fondamentale dell'essere umano. Ovviamente questa dimensione, secondo Sartre, tipica dell'uomo, della sua natura, non dipende di per sé dalla situazione storica. È l'uomo che si è finalmente reso conto di essere appunto un Dio mancato, ma lo è sempre stato. Ma c'è stato anche qualche filosofo nel Novecento, soprattutto nella seconda metà del Novecento, che invece ha detto sì, certo l'uomo magari è anche questo, ma la società riveste un ruolo importante in questa difficoltà dell'uomo a dare un senso alla propria vita, difficoltà dell'uomo a trovare una, tra virgolette, vittoria. L'uomo diventa quasi un fallito perché è la società che lo fa fallire. In particolare, accenni di questa tendenza, secondo me, si trovano all'interno della scuola di Francoforte e soprattutto nel pensiero di Herbert Marcuse, filosofo tedesco, vissuto chiaramente a cavallo prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale, durante la Seconda Guerra Mondiale emigrò, insegnò a lungo anche negli Stati Uniti dove ebbe anche un certo successo, ebbe anche una forte influenza sugli anni Sessanta, sulla contestazione negli anni Sessanta, su Sessantotto, eccetera. Cosa sosteneva Marcuse tra le varie cose, almeno cosa interessa a noi per il tema di oggi? Secondo Marcuse la società contemporanea ha diserotizzato l'uomo, cioè lo ha spinto a perdere di vista la ricerca del piacere, perdere di vista la ricerca dell'eros, del godimento di tutti i tipi, non solo quello erotico propriamente detto, ma del piacere in senso ampio, della gioia di vivere anche in un certo senso, in favore di un principio performante, cioè spingendo l'uomo a darsi da fare, a lavorare di più, a lavorare meglio, a ottenere sempre di più. La società, secondo Marcuse, spinge l'uomo in questa direzione, ha un principio di prestazione che spinge l'uomo ad autoreprime, se questo vale sia per la classe operaia a cui lui principalmente si rivolge, ma anche per i borghesi, e questo è un tratto tipico di tutta la scuola di Francoforte. La scuola di Francoforte ritiene che Marx avesse in parte sbagliato, perché ormai non è più solo il proletariato ad essere alienato, ad essere sottomesso, a perdere la propria umanità, a sentirsi trasformato in macchina, ma perfino il capitalista è alienato, perché anche il capitalista è vittima di questa spinta alla performance. Se nell'Ottocento, quando avvenne la rivoluzione industriale, il capitalista, nella lettura di Marx almeno, sfruttava l'operaio, lo spingeva a lavorare e superlavorare per godere lui, il capitalista, dei vantaggi, del benessere, della ricchezza a potersi godere la vita, nel Novecento perfino il capitalista si autoschiavizza, potremmo dire così, perché sia il capitalista che il proletario sono unificati in una stessa mentalità, certo hanno redditi diversi, hanno condizioni di vita diverse, ma la mentalità tende ad essere la stessa, ed è quella del lavoro a tutti i costi, è quella del lavoro che deve, diciamo così, soffocare il piacere. Lo raccontavano già Orkheimer e Adorno, in quel famoso esempio, in descrizione trovate i riferimenti, link se volete approfondire, alla ripresa del mito di Ulisse e le sirene. Omero raccontava, come ricorrerete, certamente nell'Odissea, il mito di Ulisse e le sirene, Ulisse che passa in mezzo alle sirene e fa mettere la cera nelle orecchie suoi marinai, lui si fa legare all'albero della nave per non essere ammaliato dal canto straordinario delle sirene. Ecco, secondo la scuola di Francoforte, Orkheimer, Adorno e in parte ovviamente anche Marcuse, il canto delle sirene è il richiamo verso il piacere che gli operai, i marinai non possono neppure ascoltare e che però perfino il borghese Ulisse a cui perfino il borghese Ulisse non deve cedere. Il richiamo del piacere allieta a tutti ma nessuno deve cedere, tutti devono lavorare, tutti devono avere solo la mente e gli occhi per la performance, per produrre di più e meglio, per ottenere sempre maggiori risultati, per lavorare di più. Questa è una tendenza che Marcuse individua, Marcuse e gli altri individuano negli anni 50, 60, 900 quando c'è il boom economico, soprattutto, in realtà alcune anche già prima, ma è una tendenza che vediamo ancora oggi, cioè inutile nasconderselo, oggi viviamo in una società di questo tipo, una società in cui molto spesso si può sentire la spinta a essere sempre migliori. Allora, sempre più, abbiamo detto tante volte anche nel primo video di questa serie dedicato alla mediocrità. Certo, la spinta a essere migliori può essere ovviamente molto positiva, abbiamo bisogno tutti di tentare di essere un po' migliori di come siamo, tentare di lavorare per migliorare è ciò che contraddistingue l'uomo, questa spinta, l'uomo in senso essere umano, questa spinta a cercare di migliorarsi, a cercare di raggiungere anche nuovi traguardi, a fare dei passi in avanti, eccetera. Il discorso è che insieme a questa spinta all'automiglioramento deve esserci anche, come dicevamo fin dall'inizio da Socrate in poi, una consapevolezza dei propri limiti, perché solo la consapevolezza dei limiti ti può portare a una spinta consapevole e coscienziosa all'automiglioramento. Se tu sai quali sono i tuoi limiti capisci dove puoi migliorare, ma puoi migliorare solo nella misura in cui ti ricordi sempre e costantemente i tuoi limiti. Per questo dicevo che è stato bello il discorso di Berrettini ieri, perché era un discorso consapevole anche dei propri limiti, oltre che consapevole dei propri pregi. Quando noi tendiamo a puntare tutto sulla vittoria, pensando che o vinciamo o ci suicidiamo, non ricordiamo più quali sono i nostri limiti, che inevitabilmente ci sono, in ogni persona ci sono, anche nella più brava, nella più capace o nel più forte degli sportivi ci sono ovviamente. Ecco, Marcuse e gli altri a scuola di Francoforte questo ce lo rammentano spesso e Marcuse in particolare sottolinea questo aspetto che è anche alla società a spingerci in quella direzione, a spingerci verso sempre una repressione dei nostri istinti, della nostra ricerca di piacere, del nostro godimento delle cose anche semplici e banali della vita, in favore di una performance sempre superiore, sempre migliore. Pensando che il piacere arrivi solo alla fine della performance e non sia invece raggiungibile già subito. Secondo Marcuse il piacere invece è a disposizione. L'eros è una dimensione esistenziale che possiamo già soddisfare nella vita quotidiana senza bisogno di fare per forza gare. Le gare possono essere utili ma di per sé non c'è bisogno della gara per raggiungere l'eros, per raggiungere il piacere abbiamo davanti a noi un mondo che ci può garantire il piacere in molte forme, in molti mori e però spesso ce ne dimentichiamo. Questo è sicuramente l'elemento più importante e in più secondo Marcuse noi dobbiamo quindi cambiare completamente mentalità, dobbiamo fare una sorta di rivoluzione ma prima di tutto una rivoluzione mentale prima ancora che sociale perché la rivoluzione sociale secondo Marcuse è un'utopia forse, è un'utopia irrealizzabile però la rivoluzione mentale invece quella è più facile da realizzare. Vi porto una frase di Marcuse che secondo me ben rappresenta tutto questo, ve la mostro a schermo. Distruggete tutto ciò in cui avete creduto finora, buttate a mare tutto ciò che fino a ieri rappresentava il basamento della vostra vita. Vi sembrava granito, non era che pietra pomice, vi sembrava eterno ed invece friabile e inutile. Alla fine l'invito di Marcuse è quello di cambiare completamente mentalità perché la mentalità che abbiamo costruito come si vede in questa frase è una mentalità friabile, non c'è niente di fondato, non c'è niente di così vero in questa ricerca del successo, della performance, della ricchezza, del primato economico, sportivo, politico. È pietra pomice. Cercate di buttare a mare tutto questo e ricostruite qualcosa di nuovo. Con un discorso vagamente simile, anche se in realtà spostato in altri ambiti, lo ritroviamo anche nel terzo riferimento della puntata, della lista, che è rappresentato da Karl Popper, un filosofo che non ha molto a che spartire con quelli della scuola di Francoforte, un filosofo della scienza, ma anche lui in un certo senso fa autore, secondo me, di una visione meno performante, meno esaltatoria, più mediocre nel senso classico del termine. In che modo, in che senso? Dobbiamo ricordarci quello che Popper dice della scienza, che è un discorso all'epoca incredibilmente innovativo, che ha avuto successo, che ha avuto un peso, che ha avuto un'influenza sul modo di concepire la scienza, anche se non molti l'hanno capito a livello popolare, ma ha avuto un'influenza sul modo di concepire la scienza negli ultimi 50 anni. Cosa dice Popper? Dice che la scienza non è portatici di verità. La scienza non è un edificio, come ci piace a volte pensare, la Bibbia del mondo, come diceva Galileo anche, non è un edificio solido dove tutto è certo. Dice Popper, non è un edificio costruito sulla roccia, inamovibile, solido, quindi noi ci affidiamo alla scienza e sappiamo tutto, abbiamo capito tutto e non sbaglieremo mai. Magari fosse questo. La scienza piuttosto è un edificio costruito su palafitte, dice Popper. Cioè un edificio fragile, non solido. Per questo l'ho collegato a Marcuse quando dice le vostre conoscenze sono pietra pomice. Popper lo conferma. Le nostre conoscenze sono fiabili, sono incerte e lo sono sempre, anche quelle scientifiche, ma noi dobbiamo abbracciare questa incertezza. Non dobbiamo spaventarci davanti a questa incertezza. Non dobbiamo dire allora, beh, se la scienza è incerta scartiamola, come a volte ci fa ancora oggi. Se avete seguito tutto il dibattito in epoca Covid, ma anche prima del Covid sulla scienza. Quanti hanno attaccato la scienza perché non ci dà certezze, perché non ci dice come dobbiamo comportarci, quanto dobbiamo ottenere la mascherina, se il vaccino sarà efficace, se questo, se quello. Ma cari miei, la scienza non può dirci questo, la scienza non è Dio. Cioè a volte nell'immaginario collettivo si è ucciso Dio e si è sperato di sostituirlo con la scienza, come se la scienza ci potesse dare certezze assolute. La scienza non ci può dare certezze assolute. Soprattutto nelle prime fasi in cui c'è un nuovo fenomeno scientifico, come un nuovo virus. È chiaro che in queste fasi la scienza va avanti un po' a tentoni, tenta di capirci qualcosa, a volte ciazzecca, riesce ad andare avanti, ma avanti per prove ed errori. Così va avanti la scienza. Quindi inevitabilmente la scienza fa anche degli errori. Se no la scienza sarebbe Dio, se no esisterebbe qualcuno che ci dice funziona così, ma allora non avremo neanche le malattie, non avremo neanche la morte se fosse così facile la vita. La scienza va avanti per prove ed errori e Popper è stato il più importante filosofo a sottolinearlo. Quando scrive congettura e conflutazioni dice esattamente questo. La scienza prova a fare le teorie, prova a verificare, anzi a falsificare queste teorie. Se reggono la falsificazione le mantiene in piedi, se non reggono le scarte. Se non vi ricordate più Popper in descrizione vi metto il link. La scienza va avanti per prove ed errori. La caratteristica della scienza è che si mette in discussione, che tenta di verificare, di falsificare queste teorie. Cioè cerca gli errori. A differenza della metafisica, ad esempio, della religione che fa di tutto per non andare incontro a possibili errori. Evita di discutere degli errori. La scienza invece vuole discutere degli errori. Vuole vedere, vuole provare. proviamo. Ho una teoria. Mettiamola alla prova. Vediamo se regge alle possibili falsificazioni. Cioè mettiamola alla prova dove vediamo che è più facile che cada. dove ci sembra che possa andare in crisi. Lì mettiamola alla prova, la teoria. Se regge quella, tentativo di rimetterla in crisi. Se resiste, allora forse è una buona teoria che può darci soddisfazioni. Magari possiamo tenerla in piedi ancora per un po'. Se invece non regge e crolla subito, vabbè, vuol dire che abbiamo sbagliato. Cercheremo una teoria nuova migliore. Così va avanti la scienza secondo Popper. Poi altri filosofi hanno ampliato il discorso, portato dei correttivi, ma l'impianto rimane quello. L'epistemologia contemporanea ci dice quello. Che le nostre conoscenze, anche quelle scientifiche che noi riteniamo essere quelle più solide, in realtà non sono solide. Dobbiamo abituarci all'incertezza. Dobbiamo abituarci al fallimento. E anzi, dobbiamo cercare il fallimento. Dobbiamo imparare dalla scienza. La scienza cerca il fallimento. Perché solo andando incontro al fallimento puoi capire se stai in... non se hai trovato la verità, ma se hai intrapreso la strada giusta, se hai fatto un cammino nella giusta direzione, se stai andando verso qualcosa di un pochino di solido, un pochino più solido di dove eri partito. Ma devi metterti alla prova, devi andare contro il fallimento. E se fallisci è normale fallire. Se fallisci bene vuol dire che stai tentando e devi cercare nuove strade. È chiaro che la scienza fa fatica a trovare teorie. A volte bisogna andare incontro a centinaia di fallimenti prima di trovare una riuscita. Ma bisogna fare questa strada. Non c'è altra scappatoia. Non è che puoi andare solo incontro a facili conferme. Popper dice il più grande scienziato del novecento Einstein perché la sua teoria sembrava facilmente falsificabile, non perché sembrava confermabile. La scienza fa progressi solo quando si mette, si confronta col fallimento. Si apre alla possibilità del fallimento. Poi è chiaro che la scienza per... quello che noi consideriamo scienza è quello che ha resistito al fallimento, che è rimasto in piedi davanti agli attacchi. Però bisogna andare incontro agli attacchi. Se no, non è scienza. Se no, sono cose che non ci portano a nessuna parte. Magari possono essere anche utili, per carità. Ma non sono scienza. Quindi, dalla epistemologia di Popper, noi possiamo capire qualcosa anche per la vita. Cioè, il suggerimento che ci dà questa epistemologia è un atteggiamento diverso davanti al fallimento. È un atteggiamento aperto. Le partite si giocano, le gare si giocano. Si giocano anche consapevoli che le si può perdere. Non si giocano per vincere. Certo, si gioca per tentare di vincere, ma non per essere sicuri di vincere. L'errore, casomai, degli inglesi nella partita di ieri sera è stata quella di averla data per vinta prima ancora di cominciare la partita. Molto meglio l'atteggiamento di chi parte pensando di perdere. Pensando lì, questa la potrei perdere. Vediamo cosa riesco a fare. Vediamo se ce la faccio a resistere ai pronostici sfavorevoli. In fondo, l'Italia nella partita di ieri sera è una partita svantaggiata dai pronostici, svantaggiata dal giocare fuori casa, svantaggiata dal tifo contrario e ha vinto. In fondo, essere troppo sicuri di sé non è un vantaggio. Ce lo dice la partita, ce lo dicono tante partite. Ce lo dice in generale lo sport. Essere troppo sicuri di sé, credere di aver già vinto prima ancora di giocare non è un atteggiamento giusto. Non è un atteggiamento giusto nello sport, non lo è ancora ancora meno nella scienza. Nella scienza pensare di aver trovato la teoria che salve tutto prima ancora di passare all'esperimento è un atteggiamento sbagliato. Bisogna pensare di dire ma ci ho provato, vediamo, incrociamo le dita, vediamo se riesce a reggere gli esperimenti e facciamone tanti perché ne serviranno tanti prima di poter dire ok, forse ho messo un tassello. Questo è l'insegnamento di Popper per quanto riguarda la scienza, ma guardate che Popper questa stessa metodologia poi consapevolmente la applica anche in politica, perché anche in politica e quindi anche nei rami più umani delle questioni bisogna avere lo stesso atteggiamento di apertura al dubbio, apertura alla crisi, apertura al fallimento, apertura alla falsificazione. Infatti Popper, come forse ricorrerete, vi ripeto in descrizione trovate il link, dice che anche i regimi politici dovrebbero a procedere per prove ed errori, prove ed errori graduali. Popper rifiuta le rivoluzioni e le utopie perché ritiene che le rivoluzioni e le utopie si dimentichino l'errore. Un'utopia cos'è? È l'idea di aver immaginato un mondo perfetto e volerlo realizzare. Ok, ma l'utopia appunto per questo è sicura di aver ragione. Tutte le utopie avevano sempre la sicurezza estrema di aver ragione. Erano belle, come era bello per gli inglesi sognare di vincere l'europeo, ma poi la prova dei fatti si sono rivelate a volte fallimentari. E allora molto meglio dell'atteggiamento dell'utopista, di quello che sogna è sicuro di aver ragione, è l'atteggiamento del pragmatico, di quello che per carità ha delle speranze, ha delle aspettative, ma le popper provando e fallendo, provando e fallendo, provando e fallendo fino a quando magari non gliene va bene una. Per chiudere la pagina su popper due citazioni, una da congettura e confutazioni che ho già citato, l'altra da rivoluzioni o riforme, un altro testo che invece parla di politica. La prima è questa. La scienza è ricerca della verità, ma la verità non è verità, certa. Da congettura e confutazioni cosa vuol dire? Che certo la scienza cerca la verità, ma non arriva mai a una certezza, non arriva mai alla verità davvero. È una ricerca, una ricerca fatta di errori, una ricerca fatta di prove, di tenere in piedi quello che si è trovato fino a prova contraria. Seconda citazione, come dicevo da rivoluzioni o riforme, è questa. Chiunque ha tentato di creare uno stato perfetto, un paradiso in terra, ha in realtà realizzato un inferno. Io avevo detto che sarei partito dagli esistenzialisti e che avrei chiuso di nuovo con gli esistenzialisti, anche se vi ho detto non proprio esistenzialisti veri e propri, perché l'ultimo filosofo che oggi vi presento per fare questa panoramica sulla mediocrità in età contemporanea è Emil Cioran, a quale ho dedicato un video proprio in questi giorni che o l'ho già messo fuori o lo metterò fuori domani, insomma a seconda di quando metto fuori questo video ancora non lo so nel momento in cui registro. Però lo troverete a brevissimo e vi metterò in descrizione il link. Emil Cioran, filosofo romeno trapiantato in Francia, vive negli stessi anni di Sartre, in realtà vive anche più lungo, arriva fino agli anni 90, muore nel 1995, è un filosofo che riprende alcuni concetti di Sartre ma in chiave ancora più pessimista, perché per Cioran la vera e propria dimensione esistenziale dell'umanità, dell'uomo come singolo e dell'umanità come specie è il fallimento. Il fallimento è ciò che ci caratterizza. Noi siamo nati e la nascita per noi è una tragedia, è una disgrazia perché da quel momento in poi abbiamo iniziato a soffrire ed è una sofferenza senza alcuno scopo, senza alcun significato. Dio non c'è e quindi non ci può risollevare dalle nostre pene, non ci può donare un paradiso per quello che abbiamo sofferto, ma non è morto solo Dio, è morta ogni fede, è morta la scienza, è morta la filosofia, è morta l'etica, è morta l'arte, niente ci permette di sfuggire a questa dimensione di completo e totale fallimento. La nostra vita è priva di scopo, è priva di significato, siamo davanti a un nichilismo estremo. Niente ha senso per Choran, niente ha significato e ovviamente questo ci porta a una estrema mediocrità, a una vita in cui addirittura, secondo Choran, l'unica cosa che può dare un minimo, un minimo di senso alla nostra esistenza è il suicidio, in cui ha senso pensare al suicidio, ha senso considerare il suicidio perché è l'unico momento ipotetico possibile in cui la nostra vita potrebbe acquisirci un qualche significato, l'idea di poterci suicidare è ciò che rende la vita degna di essere vissuta in qualche misura. Capite che siamo in una dimensione paradossale e anche abbastanza assurda che lui rimarca, la vita è assurda, la vita è dolore eppure ci viene voglia di vivere lo stesso, è questa l'assurdità della nostra condizione, che rimpiangiamo il fatto di essere nati, soffriamo, non siamo contenti di essere in questo mondo, eppure siamo portati a viverla questa vita, siamo spinte a vivere questa vita e a perpetuare continuamente il dolore, a continuare a soffrire. Quindi siamo, direbbe Schopenhauer, gli zimbelli della natura, però in questo senso Choran reagisce in modo levemente diverso perché arriva a dire che certo noi siamo qui senza senso, senza significato, ma abbiamo una nostra piccola grandezza, come già aveva detto Pascal, che è l'ironia. L'ironia e il pensiero sono gli unici due elementi che ci permettono di non impazzire in questo mondo, di non suicidarci anche, di non tagliare i ponti, perché sono gli unici elementi che ci permettono di far passare il tempo, di sopportare anche i dolori di questa vita. Ma la vita è dolore, è assurdità, ripeto, sia a livello individuale, sia del singolo, sia anche collettivo, perché anche Choran, come anche Popper, diciamo, vede nelle utopie, nell'impegno politico un fallimento. Mentre Popper dice che l'impegno politico è importante, magari a piccoli passi, Choran dice che anche l'impegno politico è un inganno, è tutto un inganno e tutte le utopie, i sogni dalle utopie di 1900 a quelle della seconda metà del comunismo, eccetera, sono tutti fallimenti, sono tutti modi diversi di fallire. Tutti i sistemi politici sono segnati dalle ingiustizie, chi più chi meno. Certi regimi hanno delle ingiustizie lateali e tremende, certi altri ce ne hanno di più nascoste, ma tutti i regimi politici hanno fallimenti, sono segnati da fallimenti e ingiustizie. Tutti i rapporti umani sono segnati da ingiustizie e fallimenti, tutte le vite umane sono segnate da fallimenti. Dunque, più mediocrità di così è difficile, ovviamente. La nostra vita è un continuo fallimento, la nostra vita è un continuo perdere, non c'è possibilità di vittoria, nessun senso, anche impegnarsi nello sport di De Bechoran è solo un palliativo, è solo un surrogato, è solo un'illusione, niente ha significato. E quindi, e quindi, niente, bisogna vivere lo stesso, bisogna vivere, o meglio, si sceglie di vivere perché per Choran, a differenza di Sartre, la vita è una scelta, perché c'è sempre il suicidio come via di fuga. Il suicidio esiste e la consapevolezza che esiste la possibilità del suicidio ci rende più sensata la vita, ci permette di far sì che la vita diventi una scelta. E allora lì, vabbè, si sceglie, non è che si smette di soffrire, ma almeno si sceglie, si diventa più consapevoli della propria scelta, si dà noi un nostro significato alla scelta di vivere, ma un significato che vale poco, c'è da dire. E quindi, come vedete, nella filosofia contemporanea, certo, nella società contemporanea, soprattutto società di oggi, non quella magari degli anni 50 e 60, ma soprattutto degli anni 80, 90, 2000, 2010, c'è una spinta a vincere, a vincere, a vincere, ma ci sono stati anche filosofi che in anni molto recenti, Choran, vi diceva, è morto nel 95, ci hanno ricordato e tendono a ricordarci che forse questo tentativo di vincere non è sempre sensato, che forse questo tentativo di vincere non ci spoglia dai nostri dolori, non dà significato alle nostre vite, gente ci illude di poter dare significato alle nostre vite, ma magari in fondo non ce lo dà davvero. E che in fondo l'accettazione, forse stoica, forse scettica, forse cinica, perché Choran, per certi versi, è un cinico moderno, come abbiamo detto anche all'inizio del nostro percorso, quando abbiamo parlato degli antichi, abbiamo parlato degli scettici, abbiamo citato velocemente qualcosa dei cinici. Insomma, l'accettazione della nostra vita, delle nostre imperfezioni, delle nostre difficoltà, dei nostri fallimenti è l'unica via per essere consapevoli di ciò che siamo, per ammettere davvero la realtà di questa esistenza. Chiudo solo con una citazione di Choran, due anzi, che vi mostro a schermo tratte da, al culmine della disperazione, ve le mostro, la bestialità della vita mi ha calpestato e schiacciato, mi ha tagliato le ali in pieno volo e dirubato di tutte le gioie di cui avevo diritto. Seconda, pur continuando a respirare e mangiare, ho perso tutto ciò che ho mai potuto aggiungere alle mie funzioni biologiche, non è che una morte approssimativa. Ecco, basta, direi che per oggi può bastare, il video è già abbastanza corposo e lungo, abbiamo visto alcuni, non tutti ovviamente, filosofi che si sono occupati in modi diversi, con toni diversi e con, diciamo, lati, prendendola con lati diversi, della questione della mediocrità, del fallimento, della sconfitta in epoca contemporanea. Farò un altro video prossimamente dove vi parlerò dei nemici della mediocrità, di quelle scuole filosofiche invece che hanno spinto verso la performance, che hanno sottolineato di più l'altro lato della medaglia, non tanto i nostri limiti quanto piuttosto le nostre possibilità e ne parleremo. Però intanto abbiamo fatto una parola economica, abbiamo chiuso il cerchio, siamo partiti dall'antichità e siamo arrivati ai giorni nostri. Certo, non c'è solo la mediocrità, non può bastare una vita solo di mediocrità, altrimenti si finisce forse per essere di un pessimismo cosmico come Choran, ma tenere presente questa mediocrità è comunque importante, tenere presente che siamo esseri fallibili, esseri che sbagliano, che perdono, che rimangono sconfitti è importante. E anzi, ricordarci anche che sono forse più le sconfitte, gli sbagli e i fallimenti dei successi è importante, anche per spingerci verso nuovi successi. E questo mi premeva dirlo, mi premeva proporvelo e farvi ci pensare un po' sopra, farvi ci riflettere un po' sopra. In descrizione trovate come soltanto i titoletti, comparsi qui per riascoltare i pezzi, trovate anche i link ai video che ho citato, ma poi anche ad alcuni libri che potrebbero esservi utili, siete curiosi per approfondire alcune delle cose che abbiamo detto e trovate i link soliti alle playlist, ai social network, a tante robe, se volete poi rimanere a contatto con questo canale e con quello che faccio solitamente. Ci vediamo presto per nuovi altri video, sempre per concludere il cerchio qui sulla mediocrità, ma poi anche storia, filosofia, educazione civica, eccetera. Ciao, alla prossima! Ciao, alla prossima!